In secondo grado la Corte d'Appello dell'Aquila per la questione bilancio ha dato ragione alla sua linea. Qualche commento vuole fare, Presidente? Ma no, questo era... secondo me era... mi fa piacere avere una certificazione che viene addirittura da un tribunale, però per me era una cosa normale, non ho mai avuto nessun tipo di preoccupazione, anzi questa certificazione oggi serve anche nei confronti del socio, visto che era stato poi quello che aveva fatto in offerte di acquisto, adesso se volesse comprare ancora sono disponibile, visto che gli venderei una società certificata. E ci mancava la frecciatina in prima serata, Presidente? No, no, ma non si tratta di frecciatina, mi sembra che la discussione sia nata su questo aspetto qui, di voler dare una valutazione a una società per via di cose fatte male, peraltro da lui come amministratore, oggi che è certificato il contrario, se volesse risedersi al tavolo sarebbe disponibile.